della borsa di tappeto Nanni Laura. Allora queste iniziative che sono così diciamo accoglienti, importanti, che cosa significa per una persona come te che ha lavorato da sempre con i piccoli? E beh i piccoli sono capaci di donarci quello che gli adulti non ci sanno dare. Allora dire che noi facciamo giocare ai piccoli, li facciamo divertire con la lettura ai piccoli e dire qualcosa che invece d'altro canto è che non è il nostro fine sicuramente ma dall'altra parte i piccoli ci arricchiscono ma in una maniera praticamente che se non la si prova non si può. Quindi è bello portare la borsa di tappeto qui Mary Poppins qui nel bosco? E beh sì, è una figura che rappresenta la sorpresa, la gioia, l'allegria, la magia perché effettivamente poi da questa borsa escono delle magie che i bambini vivono pienamente e quando sono via poi ritornano perché hanno dei bei ricordi. Oggi che cosa raccontiamo nel bosco ai bimbi? Oggi raccontiamo una storia allegra in rima, il gruffalò, è una storia nella quale è giusto che i piccoli capiscano che c'è un modo per amarsi e soprattutto per rappresentare questo amore con un movimento semplice che i piccoli conoscono bene, l'abbraccio. E i protagonisti di queste storie sono gli animali del bosco. Ed è importante che i bimbi siano sempre vicino ai libri? Beh sì, perché dal libro loro traggono non solo quello che noi adulti intendiamo per insegnamento sia dal punto di vista puramente grammaticale, ortografico, ma soprattutto dal punto di vista della formazione interiore perché il libro è una fonte di energie, perché dal libro si può vivere, con il libro si vive un mondo di fantasia, si vive un mondo di esperienze che probabilmente con altre distrazioni non si riesce. Insomma è l'immaginazione che fa da padrona insomma e i bimbi che hanno una grande fervida immaginazione ce lo insegnano perché ci seguono benissimo, anzi arricchiscono le storie con la loro immaginazione. Tant'è vero che ogni volta che ne raccontiamo una, poi semmai la rielaborano in maniera ancora più fantasiosa e più completa. Quando si parla di Biccari si parla anche e soprattutto in questo momento di cooperativa di comunità che è nata da pochissimo e noi abbiamo il presidente che è Antonio Beatrice. Com'è venuta fuori l'idea? L'idea è venuta fuori da incontri che ci sono stati con la popolazione per quasi un anno, incontri pubblici in cui abbiamo coinvolto tutti e poi si è costituito un comitato promotore di questa cooperativa per poi iniziare a lavorare su alcuni progetti che possono essere quello della ricettività, cosa che comunque a Biccari mancava, e poi la fruizione turistica sia dell'area montana che dell'area del centro abitato. Dopo questi incontri avvenuti durante l'anno si è costituita a maggio di quest'anno, del 2017, e siamo circa 150 soci ad oggi, con alcuni obiettivi. Innanzitutto abbiamo preso in gestione il convento Sant'Antonio, quindi la parte ricettiva, in cui ci sono delle camere, in cui possiamo ospitare quindi gente con un trattamento da B&B. Poi abbiamo già partecipato ad alcuni bandi di fruizione turistica tipo l'Agribike Tour che si sta svolgendo in questo mese di settembre, in cui ci sono stati dei weekend di escursione con mountain bike, più degustazione, esperienze sia per la raccolta del tartufo ad esempio, o nella vendemmia. Invece l'ultimo weekend ci sarà l'esperienza in campagna con la raccolta della frutta e la trasformazione delle marmellate. In questo progetto ad esempio noi non ci siamo solo noi come Biccari, ma abbiamo coinvolto tutta la comunità ospitale del Monte Cornacchia, quindi anche Roseto, Alberona, Castelluccio, Faieto e Celle. Proprio perché il progetto della comunità, del progetto della cooperativa della comunità, non deve essere un progetto che riguarda solo Biccari, ma tutta la comunità del Sub Appennino e dei Monti Dauni. Ecco, infatti questo ti volevo chiedere a proposito di questa collaborazione. Oggi è questa giornata di Natura in Festa con il Parco, ma è una collaborazione perché si pensa proprio al risorgere di questo territorio, sia dal punto di vista demografico, importante, ma soprattutto dal punto di vista turistico. Esatto, perché non possiamo pensare che ci sia solo Biccari, anche perché per il territorio, pensando di offrire un pacchetto solo per Biccari, è fantasia. Dobbiamo comunque coinvolgere anche tutte le altre comunità, dobbiamo collaborare con le aziende agricole, come è stato oggi, con Dauni Aventura, che al momento gestisce il parco, ma ha altri progetti anche sull'area montana. La collaborazione è alla base di tutto, di tutto il progetto, perché da soli non si va da nessuna parte. A proposito di progetti, qual è il programma già per 2017-2018? Allora, noi abbiamo l'idea di, essendo un paese piccolo, terra di emigranti, un progetto che abbiamo veramente a cuore è quello di recuperare i terreni agricoli in stato di abbandono, perché ce ne sono tanti, veramente tanti uliveti abbandonati, perché purtroppo gente che ha ereditato questi terreni, è andata al nord o all'estero, non è più tornata in queste terre. Non sa nemmeno di averli, magari, quei terreni, quindi stiamo cercando di fare un censimento, proprio per capire quali sono questi terreni, cercare di riprenderli con gli agricoltori del posto, quindi portando lavoro agli agricoltori del posto, ai braccianti agricoli, e recuperare poi il prodotto, perché l'olio, come ben sappiamo, insomma è un fiore all'occhiello per noi di Biccari ed è veramente importante. Presidente, quando nasce il consorzio e come mai l'idea di fare questo consorzio? Allora, il consorzio è nato da poco tempo, era, diciamo, da un anno che un gruppo di cinque amici discutevano su come poter valorizzare i prodotti di Biccari. Ci siamo chiesti quali sono i prodotti del nostro territorio, l'olio e il grano. L'olio, già comunque a un certo valore è stato valorizzato, ci sono già piccole realtà, piccole aziende che valorizzano il prodotto olio, le olive, quindi il prodotto olio. Il grano, invece, restava un prodotto povero, nel senso che noi agricoltori, perché noi siamo cinque agricoltori, prima cosa di essere produttori. Noi agricoltori semplicemente vendiamo quello che è il nostro prodotto, la nostra materia prima. Tutto il resto, la trasformazione, tutto il resto viene fuori, con tutto quello che ci può essere dietro. Allora, ci siamo chiesti perché non valorizzare il nostro prodotto facendo anche l'intera filiera, quindi dalla produzione della materia prima, semola, fino alla pasta, al prodotto finito. Così, da questa idea, a fine luglio è nato il consorzio Terre di Biccari. Quanto sono importanti queste iniziative per comunicare, al di là del consorzio, proprio i prodotti del territorio? Sono importantissime. Sono iniziative che ci permettono di far conoscere il territorio, le caratteristiche, le peculiarità del territorio e di quello che ti può offrire il territorio, sia in termini di prodotto, di alimentazione, ma anche di bellezze naturalistiche che Biccari ha comunque. e che quindi, grazie ai prodotti e grazie a questo, può essere valorizzato l'intero territorio. Dunque, è importante e essenziale che tutti gli attori facciano sinergia? Assolutamente sì. Infatti, siamo una piccola realtà e da questo punto di vista ci mettiamo insieme per fare qualche cosa. Da soli non si può andare da nessuna parte. Se ci mettiamo insieme, se ci associamo, consorzio, qualsiasi tipo di associazione che sia, bisogna mettersi insieme per poter valorizzare il nostro territorio. Chiunque dice che il Nero di Troia si coltiva soltanto nella Piana o a Castel del Monte, si sbaglia perché è un vitigno autoctono proprio di questa zona e anzi ha un microclima che funziona molto in maniera diversa proprio nella zona che va da Troia sui Monti Dauni. Voi come associazione Vicari ci avete creduto in questo progetto? Sì, abbiamo creduto in questo progetto perché le nostre terre producono un bel uva che restituisce un buon Nero di Troia. quindi è quello che vogliamo far conoscere un po' al resto dell'Italia, della Puglia, di tutto. Abbiamo creduto in questo perché già da tradizione noi abbiamo sempre un po' coltivato l'uva. Ultimamente si è un po' lasciato andare. Quindi vogliamo ricordare e riproporre questa nostra radice, questo nostro modo di essere, di coltivare, di vivere la terra che fa parte delle nostre tradizioni. È importante infatti che sia nato ormai da un po' di tempo il consorzio del Nero di Troia però continuano a prolificare, adesso è importante, molte cantine e imbottigliamento del Nero di Troia proprio di questa zona che è un nero un po' a sprigno che però rende conto di quello che è il territorio. Sì, è un nero a sprigno, ha dei sapori un po' pungenti però questo è vinificato in purezza dopo un po' che ha preso l'aria riesce anche a restituire un bouquet molto fruttato e abbastanza rotondo come sapori. E noi fra poco lo degusteremo qui con i prodotti degli amici che sono qui a fianco perché il Nero ha bisogno di prodotti robusti. Sì, di prodotti strutturati e penso che con la pasta e con i salumi a disposizione e gli assaggi che ci sono si sposa benissimo come giustamente è il nostro territorio che sposa comunque tutti i prodotti e quello che si diceva prima la sinergia è proprio la collaborazione di tutto e tutto anche i prodotti che noi tutti produciamo.